Una Brexit tira l'altra e anche noi in Italia prima o poi correremo il rischio di Italexit come giustamente ci ricordava prima Marianne Aprile si chiamerebbe in Italia. Io credo di no perché penso e l'abbiamo dimostrato nelle elezioni europee che siamo consapevoli di quanto l'Unione Europea abbia fatto per l'Italia con tutti i suoi limiti, con tutte le sue debolezze, però se devi mettere più o meno è un più importante nella storia d'Italia aver fondato l'attuale Unione Europea quindi non credo, anche perché Brexit è stata talmente complicata, umiliante addirittura lancinante per un paese solido, una democrazia solida come la Gran Bretagna che credo che abbia scoraggiato tutti quanti, non incoraggiato, anche perché non è finita anche perché dovranno un anno che non basterà per negoziare un nuovo accordo con l'Unione Europea anche perché come diceva Marianne ci sono questioni aperte ne ho scritto appena adesso, uscirà domani sul Corriere sul fatto che la Scozia è la questione fondamentale perché la Scozia può fare una cosa che la Catalonia con la Spagna non poteva fare può dire signori, uscire dall'Unione Europea cambia le regole del gioco questa la Catalonia non poteva farlo, quindi siamo sicuri che vogliamo stare ancora nell'Unione Europea e Boris Johnson l'unica cosa che potrebbe fare è riempire la Scozia di investimenti e di aiuti ma dove trova i soldi lasciando il mercato europeo? dove li trova i soldi?